rispettare la musica, però c'è il problema che gli attori parlano piano, bassi, perché hanno un microfono qua, quindi si possono permettere delle vocalità diverse dalle nostre, che poi dobbiamo rispettare la musica, perché altrimenti non si capisce quello, diciamo, perché un'altra cosa è che per gli americani, soprattutto per i villi, mandano le musiche a parte, e per loro è portata la musica, a tremita, a sparate, a avvenza, a miliare, e tutto, sei costretto poi a parlare in maniera diversa, e parlare in maniera diversa quando un attore ha sul volto che non ha, non sapevo spiegare, il punto è quando magari anzi la voce, striglio, vai, comunque ti cambiano anche le posizioni, l'altro che succede, che vedi, l'attore comunque è fermo, per dire, tu parlo a basso, tu però per non farmi toglia la musica sei costretto a danzare la voce, e spesso le intonazioni, come dici le cose, sono un po' diverse, a meno che quando ci sono dei film particolari, importanti, che ci tengono anche alle parole, alla voce, allora, c'è il Tecno Pietro, comunque in Italia abbiamo i peccici più bravi, molto che avere i doppiatori più bravi, a Roma, tutti i bravi, ma poi sei a Milano, ma non per parlarne male, perché è così, e poi andate a vedere tutti i film vecchi, Sean Connery, Jack Lemmon, tutta la gente che è per Roma, di Natti, di Lotti, cioè si parla di Carletto Romano, che è quello che facciano, se voi non credo che ve lo ricordate, i famosi Super Gold, lo caldo si ricorda, l'incanto, è un spettacolo, per cui... Jerry Lewis, so che loro facevano, e c'era anche, ora non mi ricordo il nome, che faceva tutti i giovani dell'epoca, era, era... Massimo Dulci? Massimo Dulci, bravissimo, dai, mi viene sempre andato, Massimo Dulci, però era diverso, prima era diverso, era un modo di lavorare, c'era più tempo, non lo so, per fare un film, prima di fare un mese, ci si metteva anche un mese, un mese e mezzo, tra doppiaggio, mix e tutto, si facevano poche scene, ma Massimo, gli anelli ormai salivano le zone, si facevano massimo, quando il piano era pesante, 10 anelli, quindi succedeva che, innanzitutto prima, o ti mandavano, o ti chiamavano, ti portavano in sala, e vedevi tutto il film, l'originale, facciavano vedere tutto quanto è il film originale, che molti dicevano che comunque era meglio conoscere già la storia del personaggio, del film, per capire tutte le cose, i segreti, le emozioni, per molti è così, per molti altri non lo è, io, per esempio, per me, non mi dà tanto vantaggio conoscere bene la storia, magari preferisco la storia del vettore, la schierica americana, il film è questo, 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 vorrei da te queste cose, perché, perché, se io vedo l'ottore, vedo tutto il film, quando poi entro il saio piatto e guarda perché la scena, io parlo già, psicologicamente, non te dico una cosa, la dico perché so che poi accadrà quello e quell'altro, magari può perdere di verità, perde in verità, secondo me, chiaro, il minimo di storia del personaggio che è, è chiaro che la devo sapere, però mi affido più all'istinto, se comunque l'attore, poi dipende anche l'attore bravo, c'è un po' bravo, perché ci sono anche attori che, sicuramente, non ti danno aiuto, proprio, però è chiaro che nel caso mio ho la fortuna di fare Johnny Depp, voglio fare la radio, la mia nav, la mia nav, la mia nav, ma comunque, soprattutto Johnny Depp è un attore, che io non ho visto i pochi, che recita veramente solo qua, recita solo con la faccia, è una cosa, allora, in quei casi io seguo tantissimo, che io seguo i suoi occhi, che gli occhi, anche io ho parlato da raggiungo, tu guardi non lo stai agli occhi, capisci che ti sfrutta pure l'acqua, capisci tante le cose, Cesare Barbelli, se la ci ha dicendo proprio qua, Cesare, Cesare era un altro grande, lui era un mostro sia, tecnicamente soprattutto, era eccezionale, io ho visto fare delle cose da Barbelli, insomma, una scena di trenta righe, lui la vedeva una volta, poi la provava, ha detto che era perfetta, di silk e di intonazione, che è tutto, e lei non è possibile, però insomma non siamo più uguali, perché ha bisogno di più tempo, e chi invece riesce, perlomeno, ecnicamente a seguirsi, anche prima di tutti gli altri, però, questo è un livello, è stato, da, 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 dalla, dalla diversità, come abbiamo, e, no, il fatto del, di guardare gli occhi è una realtà che si dice, veramente quello che ha dentro, l'altro lì ci metto, che ti dà una mano. Poi, ovviamente ci metto il femmino, ci metto dentro quello che ho io, perlomeno io quando, quando doppio, ovviamente non... alcune serie si sono fatte bene, anche alcune serie, per esempio, io ho fatto una serie The Alção, mi sono stata la presta, c'era quell'attore, anche il Michael Gorda, che ho fatto da gente, ecco, lui è bravissimo, l'attore stato ordinario, però non tutte le serie sono bravi, quindi non è che ti puoi appoggiare a questa cosa, però nei film sono da fuori importanti, grossi, l'occhio ti viscerà e poi uso quello che ho detto io, anche magari le mie sofferenze, le mie preoccupazioni, le mie emozioni e non esterno magari, anche fuori, le posso mettere nel personaggio, nel cuore allora faccio, cerco di fare un mix di quello che ha fatto l'attore, però mettendoci le mie emozioni magari insieme a Resur, però insomma comunque cercare un'altra gioiazza, perché altrimenti copierei il pasta sarebbe solo di copiare, non è facile copiare se non sarei copiare, come a scuola, se non sarei copiare, copiare e qui è, niente, non dipende molto, che comunque è un lavoro che noi, l'attore che ha fatto il film in, lo so, in un anno, in sei mesi ha girato, l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto anche l'attore, in personale, lo so come funziona, lo franciato, lo fa, i prodotti, i prodotti, aspetta, in unico, non so pronto di qua, l'attore, però comunque in giro la scena tante volte, i film, i riparti Lui là, per esempio adesso sto con il disco di doppiare l'ultimo di Timbalto, che si chiama Swingy Todd, il nome originale è The Demon Mother, già il titolo di un disco di stanza. Per esempio con il film del genere lui ci ha studiato non so quanto, tra l'altro in questo film canta pure, canta l'opera, la verità, in una maniera... Le canzoni sono cambiate. Assolutamente no. In alcuni casi... Come è stato successo questo? Carlo Valle ha cantato anche canzoni? No, ma le canzoni lì è un discorso a parte, lì hanno tutto il cantato, però in questo caso il fatto di cantare le canzoni più... Appartiene a vent'anni fa, vent'anni fa, ora si dà anch'io, ricordo, Elliot è bravo visibile, è dovuto cantare, c'era la verità stessa, è dovuto cantare. Oggi in alcuni casi si canta, per esempio in questo film, rimbattono a mandare spessamente una mail dicendo che assolutamente non fa tanto per niente, ma è anche... Per quanto ci possano essere bravi dai doppiatori attori, questa è tutta la descrizione, non so se... Alcuni ci definiscono attori doppiatori, io mi definisco doppiatori, basta, poi... Fatto anche l'attore, ma per me è molto diverso l'attore, anche se poi in realtà siamo attori perché... Non puoi fare l'attore per loro. In questo caso, dicevo, dibattono giustamente, perché... Per quanto siamo bravi, ma no? Vi assicuro, voi lo vedrete, a cima, ma... È impossibile cambiare una cosa del genere, neanche... Non lo so, penso nessuno potrebbe valio, ma... E sono straordinari, e in questo caso... La difficoltà aumenta, mentre... Comunque... Non si deve sentire troppo la differenza dal cantato... E la voce... Allora, come in questo caso, io ho la fortuna, che comunque non so di rap, abbiamo un po' di voce simile. Per esempio, mi ricordo un anello che quando stavo tochiando Libertino, un po' che l'abbai visto. No, tutto l'abbai visto. Ricordo una volta arrivò al lavoro, in sala, e c'era già l'anello che diventava, io... Io mi sentivo... Allora, il direttore... Ma scusate... Quando loro sono fatta questa, che ancora non l'ho fatta... E lui mi diceva che è cascato, io non sede, e lui che parlava in italiano. Lui che parlava, ha recitato un pezzo con una parte italiana, e io... Anch'io che aveva raggiunto, era uguale a me. Quindi, in questo caso, ci salviamo per comunque la differenza. È poca. Anche se è chiaro che logicamente un minimo si sente sempre. Anche perché, come in questo caso, sono talmente bravi loro. E io, lo stesso, è come un tre storico. Mentre provo, mi rimango incantato. E il direttore fa parte. Allora... Scusate. Perché ci sono questi pezzi. E lui è prima bravura. Secondo me, di quelli che faccio, è il più bravo. Infatti, si può vedere dal fatto che comunque... È l'unico attore, per me lo faccio io, che ha fatto di tutti i generi. Cioè, passa da gente al supportatore, a Fabio del Corporato, a Libertino, a Ibirati, a Sparo, cioè... E tu dici, questo poteva farlo solo lui. Ti metti a pensare, chi potrebbe depredare? Lui, già al diverso. Perché... Infatti, la cosa che mi vera linda... Io spero... Viro andrò per lui. E ormai, veramente, non è un problema come me. Cioè, veramente, quando lo vado a doppiare... Non faccio patita, perché... C'entro dentro, insomma. Come anche qualcuno fa, non devo dire. Però diavolo che con questo film abbia andato l'Oscar. Perché se non glielo danno qui... Non è possibile. Non trovo un perché qua. E' veramente... Ma a chi lo vede... E' uno che ti ha dimostrato di saper far tutto. E' bello. E' insomma... Dio servizio. Però... Eh... Grazie. Sì. Eh... Prego. Se... Il Maggio del Porco Dio non ha mangiato altro. Quindi... Intanto... Tu lo conosci? Vabbè, inizio io. Vabbè, inizio io. Questi me li dovi subito. Lo so che si... Si, si... Si... Si, si... Si, si... Si, si. Si, si. Sì, si... No, è mai poco... Prego, prego, vedeteci, faccio, faccio le giornate... battuta fasta, non solo il attaio che consegne. Ma sì, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa una battutina, molte volte anche un pezzo, alcuni miei colleghi, per volte, dei ragazzi che non si lavora, ma sì, ho fatto con l'uomo quattro pezzi. Sempre questo, però, sembrerà stupido, ma anche il pezzo o una piccola battutina è più difficile del monologo, perché con il monologo, comunque, nell'arco della battuta puoi riprendere bene la cosa, ma non a battuta di là che devi dire devo andare al cinema, quella o la dici bene subito. Cioè, ti devi concentrare per farla bene subito. Però, insomma, una volta c'era questa cavetta, dovevi andare, e serviva, serviva tanto. E poi, viva tanto, imparavi piano piano piano, sospravavi il collega bravo, in modo di recitare le cose. E poi, per esempio, mi sono molto vestito e uso molto i miei merdi interni. Se vado a lavoro questo cosiddetto, io non vado, non faccio niente. Io ho questa gente, che ho concentrato sempre, mi aiuta a fare le cose. Anche se poi mi portano, che spesso mi danno un valore da pazzo, dai matti. Perché sia... ruoli di storie d'amore, ruoli. Questo non me nate, è quello che... Chi è venato, chi è venuto, è classico. Secondo me non può fare un film d'azione. L'ho fatto in un film d'azione. E... Certo. Lei c'è? Quello con quello è proprio D'Amonia. No, no, l'altro prima. Era proprio lui, era proprio una spia. Però questo bacione non è incredibile. Non proprio la spia, però... Però è proprio... Quello con Samuel L. Jackson se non sbaglio? Ehm, no, c'era, c'era un altro. Forse la Gina, ma una cosa è altra. E mi dicono, oh, svolgiamo il schiaglio, la... E poi non ci siamo. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Andai che c'era Morgan Freeman. Questo film è che faccio il suo capo. Tipo i potesi di reato. Se lo ricordate, i potesi di reato, forse... Quello con Sergio... Bravo. I potesi di reato, bravo. Sì, sì, bravo. Sì, stai leggendo. Eh, ragazzi. C'è un po' di premira. È impossibile. Cioè, dovremmo... Mi ricordi, se i potesi di reato l'hai fatto tu o tu, Lucia, mi ricordi. Come si di reato? Questo che diceva lui con Samuel e Jackson, compiando la restaurazione. No, aspetta. Voi si di reato? Ah, non era un altro. 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 Alta tensione. Un altro. Un altro. Ero l'altro. Tu ti senti, tu. Uno. Tu ti senti. No, no. Ero l'altro. No, no. No, no. Guarda, ti spiego, ci è successo... Per esempio, io da prima iniziavo a fare con il farre con il film Magal Deco, come stai in passi, non so, proprio il film di... Il film di là, la prima, io, quando mi ero uno degli ultimi, c'era tra le pizze, ma che è straccio d'essere spirito. Faccio questo film di nuovo, faccio il postulino di qua di là, bellissimo. E nel film dopo, che era una polaggerata di fare, avevo un bacino, regola del suo senso spesso. Mi chiamano a fare il film. Vavo via a distanza di una settimana che avevo finito il film, era necessario, praticamente. E io ho detto, ma poi non ci vado, non vedo che dovrei fare, che vorrei fare il polaggerino quando mi ero uno ha fatto, ho vinto, col braccio destro in spirito, ma in armenica, non c'è un figlio, ma... E, tra l'altro, non l'ho fatto. Cioè, non c'è un altro, tra l'altro, sapevo già che c'erano. Sapevo già che c'erano. Sapevo già che c'erano. E io risparmiamo che sta che già c'erano. Però dopo di quello, me l'hanno... me l'hanno spedato. Infatti poi, devo ringraziare. Ma io, posso scherzare. Mi trovo davvero, mi trovo davvero, mi trovo davvero, e poi è successo. L'ho fatto in front vote, una casa a Pedalemont, e magari arriva a essere candidato. Il mio ricordo di quello che l'ho fatto era Alex Simon, ma anche io, un gioco, un gioco che io soffermano, poi il disangere nel mio ambiente, e io non lo volevo compri per quello, però... Beh, è stata una mia scelta, non sono mai più contato a fare questo periodo. Gli unici due dove ho avuto quattro, quindi ho avuto casi, ecco. Poi c'è... C'erano stati due film, il cui l'ha fatto Yansan, e questo è un intervento, per esempio. Eh sì, perché là c'era Ben Affleck, con Yansan... Tu ti avresti fatto? Beh, certo. Anche in un film, credo precedente, in cui non ricordo il titolo, aveva fatto Yansan. No, l'unica volta, no. No, che io sappia lì, lui è stato l'unica volta che ha fatto Yansan. Abbiamo parlato, guarda, che ti dischiavito, perché tu mi hai dormito, logicamente, tra Ben Affleck, avendo già fatto i venti film, ho preferito, poi comunque, volete fare lì, non è che il titolo era una quattro, ma non era... magari, diciamo, in 12 casi, sono stati diversi. Il film, secondo me, era molto sprecato, cioè lui, con queste... con il film, in quel modo, anche se forse sai, non hai in quel modo dei frumenti originali, ma... Sì, infatti, poi comunque, ti deve piacere quel genere, eh? Sì. Perché, per esempio, quando ho fatto Sin City, per esempio, per un playbook, però, a molti non è piaciuto. È un film particolare, che ti piace vogliere, chiamolo, chiamolo, allora magari... particolare, come il film, ma anche da doppiare. Sì. E comunque devi entrare in un meccanismo mentale diverso. Sì, perché Sin City è proprio, cioè, il peggio dell'umanità, in cui sia nel fumetto di fake music. Sì, però, ripeto, lo sa chi è appassionato di leggere tutte queste cose e può entrare in quella mentalità, in quello schermo. Infatti, lo stesso... Allora, quando va a vedere il film, capisce anche molto. Ma c'è gente che andava a cercare da partecipare. La mia vita è... Sì. Sì. Infatti, sono gli stessi che hanno visto 300, ed era orribile, perché erano solo due fomenti analisi. Eh, però magari... Lo sai... Non ho bisogno di dire, non ho bisogno di dire, non ho bisogno di dire, non ho bisogno di dire. No, è naturale, figurare. che è un ambiente generale. E tutti criticano l'altro, solo perché magari non hanno fatto nulla. Questa è la cosa a cui io... Non ho bisogno di dire, non ho bisogno di dire, non ho bisogno di dire, perché... C'è i film di Frank Miller, sia 300, che sì, sì, sono stati poco capiti. Sì. Perché comunque, insomma, è un disegnatore un po' passicolace. Sì, sì, sì. Sì, sono pochi, perché sono appassionati di queste cose. Però c'è il dispositivo che poi rimane. Sì. Però... Sono tutto articolari. Poi, a parte quello, criticano anche se mi piace, perché non sono niente la nostra cosiddetta, la potrebbe un assorto, perché... Questo lo fanno solo perché non hanno fatto loro. Io l'avei fatto meglio, ma... è una cosa che a me non piace, perché... anche perché è perso che chi l'ha fatto si è impegnato al massimo. Poi, che non abbia magari le qualità o le cose per fare perché non dira colpa sua se ci vanno così le cose e poi no. Non bisogna fare. Non bisogna fare. se ci invita a fare un lavoro, che è bello, che è male. Poi, con gli olessi che dicono, non sono in grado. Ma, poi, non ci vado, proprio. Io, ho questa cosa che invece mi dico, ragazzi, poi alla fine, se non pagherà se non pagherà se non pagherà però, a me non mi sento tranquillo, dormi sereno. mi sento quando le rete si scossa. Da quanto mi dai colleghi, mi siamo tranquilli, ma io conosco i figli di a questo genere, ma non perché, non è una cosa che mi piace. Cioè, se tu e io, mi sono chiesto un pizzo che c'è, non c'è niente il volo. sembra così difficile fare un po' dritto all'altro collega ma perché? sembra proprio una cosa magari dicono ho visto il film si se non è stato bravo è stato bravo lo fanno i giocatori di scatti che si stringono la mano una partita non lo fanno è sempre una cosa che ricordo sempre se non è un pezzo che dice qualcuno che non ha pagato il giaggio va lì ce n'era Feta Nauda che è stata una delle più grossi direttive che tali scout però va lì messo a fare cosa del genere io dici bravo che devi dire è stato bravissimo senza esperienza senza pagare l'esperienza poi ti dicevo loro hanno fatto tanto 3 minuti va lì da micro no? e di vita e emozioni perché hanno fatto in 6 mesi quindi in 10 minuti devi dare devo dare a voi a voi devi dare le persone con i problemi che ti tembano c'è problemi personali cose al lavoro stanco al lavoro comunque soprattutto le cose poi sempre anche la domani noi di mattina scena drammatica di piante più noi di mattina mi pare la vera però insomma non è un po' un mestiere complicato secondo me c'è di soglie che tu è soglie non so io è un po' così credo lo scrittore non erano molto in mano ma che devo devo fare altre cose mi hanno chiamato poi sinceramente faccio fatica se ne ha presso un po' tutte le storie qualcuno che arriva allora no però il personaggio mi piace fare perché è un po' più disposto sta un po' dietro come me infatti non sono in obiettivo a stare molto davanti per stare dietro lavorare sui e e non più che fare i problemi che soglie è un po' così perché comunque stesse però alla fine sembra cattivo ma non è più niente e alla fine invece è quello che poi comunque si sa si può muovere poi apra storia dietro magari anche vedete poi con le spessore anche la vita no giudica sempre e poi magari non sa quello che c'è dietro chiedere una persona e soglie è un po' di questo non sempre in quegli anni di quelli doppiati economologicamente o delle altre stelle no 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 si fa in sequenza a meno che può capitare che ci siano delle persone che potrebbe essere liberato e allora magari si salta quella di ozzina ma no non so generalmente va in sequenza da soli oppure più più no no quelli insieme da soli ormai si fanno i film ormai i film tutti in colonna separati perché per il problema che spiegavo prima ormai dall'america voi non i separati ma per poi poterli sistemare come voi altrimenti insieme magari ci fanno due battute una battuta che va sopra l'altra quindi non possono tagliare non possono pulire non possono mettere la musica in un certo modo quindi potrebbe però sta la nostra bravura io per esempio mentalmente mi leggo la battuta sua e poi rispondo però non è facile guardare un lavoro di tutti per noi non sarà mai uguale come te che stiamo parlando e poi rispondo diciamo però è così oppure convocano i due tre attori ti fanno provare insieme ma io poi ci vedo però quanto vero fai la buona se riesce un po' la piaccia è così se mi dasse un film con Johnny Depp e ben appi sai la risposta tra l'altro c'è sempre questa interna c'è c'è sempre ben appi con Johnny Depp l'interna storica l'interna sì il film è che diventa se il film io ho bisogno presenza e lavoro con tutto l'unica e il potere che riguarda l'unica ma se chi ti si che vabbè la mia sorella non è la professione cucina ma su l'unica tutta la vita quindi se chi è il porto a meno che questo si c'è c'è un attore che aveva voluto non piare ormai non piare non c'è stata possibilità e facciamo due chiacchiere io credo che voi abbiate anche molte curiosità anzi mi auguro che ce ne esprimiate direttamente io ho una formazione un po' diversa da quella di Fabio nel senso che se Fabio è lui anche teatro ha anche teatro un ottimo risultati anzi d'accordo è no e mentre Fabio è iniziato la piccolissima quindi la sua vita prima del doppiaggio non vedo se la ricordi no assolutamente non ha ricordi senza il doppiaggio io sì io sì perché ho iniziato nelle radio private le prime anni 70 quindi un altro tipo di approccio alla carriera artistica sono approdato il doppiaggio nel 79 con un colpo di fortuna di quelli che nella vita possono succedere con i miei aspetti io amo ricordare perché non è detto che non ci siano possibilità per tutti a volte sono legato davvero alla fortuna l'opportunità al caso e poi a come tutti giochi la partita io ricordo ancora che ero a Radio M una radio leader a Roma nel 1979 avevo un'ascoltatrice affezionata che ogni tanto mi chiamava e ai tempi poi quando facevi i programmi a radio di solo quindi rispondeva a trefone per i dischi e a trefone e a trefone e questa ascoltatrice sapeva lo spagnolo ogni tanto mi correggeva quando dicevo qualcosa in spagnolo sbagliato un giorno questa signora che era più grande di me mi chiese cosa facessi io nella vita autora mi insospettì perché ho pensato che forse volesse conoscermi meglio era vero ma non come pensate voi era Sonia Scotti una grossa maturice al rito che mi ha detto tu se non eri una voce interessante hai una certa facilità una certa espressività vorresti volare a fare un prognolo di doppia io mi precipitare e era decisamente mio giorno perché arrivai e la prima cosa su cui mi provarono fu un annunciatore di l'apporto ovvero uno che si ovvero doppiando l'apporto però il prognolo lo fecero su un signore che usciva e diceva signore e signori buonasera fra poco vi divertirete tutti con il nostro spettacolo di Fulamboli e Progher visto io facevo le serate da 10 anni mi esprime dopo con la naturalezza non avevo nessuna difficoltà quindi mi disse ma sei e da lì ovviamente io poi continuai a seguire e le opportunità erano anche anni che era più facile ma andiamo un po' ad analizzare i passaggi e i momenti storici nei primi anni 70 ci fu un terze moto nel doppiaggio perché arrivarono le televisioni private e quindi arrivò l'esigenza di dotarsi per tante televisioni di un magazzino immenso quindi faccio dei numeri assolutamente campati per l'aria proprio per darvi l'ordine di misura si passò dal doppiare a Roma 10 ore al giorno a 100 ore al giorno e quindi il movimento di mercato fu mostruoso perché le leggi e la domanda dell'offerta saltarono tutte bisognava trovare gente in grado di fare questo marchiere in tempi rapidi per affrontare questa necessità quella di riformire questi magazzini e con i professionisti straordinari che c'erano ma che erano 100 150 non era fisicamente possibile anche se avessero lavorato 20 ore al giorno tutti non ce l'avrebbero fatto e quindi si cercavano davvero persone nuove e per gli anni al contrario di quello che ti ha riferito sono cresciute le cooperative sono cresciute le società le cooperative i gruppi le opportunità di lavoro e quindi ho avuto anche l'opportunità in tempi relativamente brevi di avere ruoli di un certo rilievo le opportunità poi con giochi bene o male c'è chi ha avuto la sua prima serie da protagonista presto e poi non ne ha fatte più e ci sanno perché c'è chi bene o male ha avuto dettagli e poi non ha più smesso di farlo e quindi anche lì il nostro è un mestiere dove in qualche modo il merito viene ancora premiato in uno scenario così devastato per cui noi viviamo tutti a 360 gradi non parlo solo del settore artistico credo che il doppiaggio ancora si distingua perché chi ha qualità dove però attenzione qualità è un discorso molto ampio qualità umane qualità professionali capacità di relazione capacità di organizzazione perché i nostri valori bisogna organizzarsi se non sei capace di organizzarti e di dare risposte a tanti interlocutori rischi davvero di scontentarti tutti tra ne uno e quindi di esserti inimicato dalle persone e sempre per la legge della domanda e dell'offerta nessuno è un'esame tutti siamo utili e quindi devi anche essere in allace di gestire i tuoi rapporti le opportunità che hai giocante al meglio insomma per farla breve la mia entrata nel doppiaggio ovviamente fu molto più difficoltosa in proporzione di quella di salvia perché io non ho avuto il percorso naturale non ho fatto l'asilo nelle sale di doppiaggio mi sono trovato proiettato in un mondo dove mi venivano chieste cose che non mi erano mai state chieste per me dove ho scoperto ad esempio che fare solo la radio non ti insegna minimamente a usare la voce anzi rischia di essere controproducenti perché sul piano interpretativo tu sei fermo su un registro più o meno standard salve come state ben trovati cari amici e poi non puoi fare solo quello se fai l'attore per cui da lì la trasformazione è anche una consapevolezza diversa è anche una voglia di crescere perché vedi che tu che pensavi di essere qualcuno perché nella radio ero qualcuno arrivi e sei l'ultimo e sei veramente l'ultimo rispetto a certi mostri salvia tu ti provi a lavorare anche perché nel nostro mestiere tu arrivi e con estrema naturalezza al tuo primo turno sei accanto a un mostro sacro lui dice 27 va tu e tu dici perché e la sbagli e la sbagli e ti senti morire e lui dice sereno sono bravo ti va dicendo che tu vorresti morire però è così il nostro mestiere è un mestiere anche fatto di queste piccole cose anche perché se si lavora ormai ci capita sempre meno di lavorare insieme io lo spiegavo adesso capita sempre di più lavorare da soli ma ai tempi anche per una difficoltà tecnica per i differenti mezzi che c'erano invece era quasi impossibile fare una lavorazione dove si lavorasse con i personaggi in colonne separate in tracce separate banalmente perché il supporto audio che c'era era talmente rumoroso che se mettevi insieme tante colonne tutte con il loro fruscio per andare a sentire il piaccio e sotto c'erano le voci piccole cose quindi non si foteva quindi lì imparavamo ad esempio una cosa che oggi si impara sempre meno che è l'armonia delle tre quattro voci insieme tutti vicini tutti abituati a relazionarsi al microfono perché abbiamo un interlocutore solo che è quel microfono e sicuramente se il microfono fosse qua e fossimo i quattro io sarei quello più svantaggiato di cercare di stare evidentemente e così si doppia anche così un po' storpi un po' angolo capito? arrivare con la voce vicina al microfono la candela e questo succede per cui oggi questa esigenza c'è meno perché separando spessissimo le voci non c'è più questo problema in compenso ai tempi si imparava molto di più ad usarsi perché se stai qua sai per forza che devi suonare un po' di più di chi sta qua davanti al microfono è un problema tecnico c'è chi dice che i microfoni sono anche meglio una volta c'è chi dice che i tecnici che li usavano c'è una serie di cose i rumoristi c'è da dire comunque che facendo proprio una ecco bagliando le cose rapidamente c'è anche una fretta oggi che ai tempi non c'era proprio perché è diventata una produzione paraindustriale noi produciamo noi produciamo industrialmente prodotti artistici è folle ma è così un tempo invece era veramente un prodotto artistico voi pensate che Fabio se ricorderà ancora più di meno era normale un po' di anni fa che un film di circuito un film importante durasse nelle sale di doppiaggio come esperienza più di un mese adesso perché durano più di due settimane sono una rarità ma ci sono casi di doppiaggio durante tre mesi di spessore oggi in tre mesi amadeus ho citato prima quello si è durato in due mesi tre mesi sicuramente e credo anche ai tempi la prima edizione di una di questi film sono anate i grossi non so se era il padrino c'era una notte in america c'era una notte in america credo che forse dei film record come numero totale di turni con la lavorazione però lì è un caso a parte perché c'era chiamiamola l'aggravante di avere il regista italiano è ovvio che non è un aggravante è ovviamente un cercare e non un scivizio da come voleva esatto perché lui aveva in casa la sua idea che era proprio passavano magari anche tre ore non importa due anelli tre ore ma a volte uno sì oppure fai due anelli ma uno lo rifacciamo domani perché non li hai con me psicologicamente è devastato è devastato il nostro è anche un mestiere di grande pazienza la sensazione della rutilante e emozionante vita del doppiatore cerchiamo di mitigarla si vive al buio per ore immense infinite d'inverno entri la mattina e la luce non la vedi più la vedi la mattina dopo e ripeti la stessa battuta a volte 50 volte vi assicuro che non è divertente però è una sfida se sei se hai la voglia di affrontare questa sfida questa sfida non ti scoraggia ma tant'altro se fai qualsiasi mestiere artistico ripetere è fondamentale Pagadini lo ripete è un gioco della storiografia della leggenda ma in realtà chiunque fa un lavoro artistico ripete ogni volta che sentiamo e vediamo un prodotto artistico è frutto di fatica di lavoro di applicazione e a volte non ci rendiamo neanche conto di quanto ogni cosa che appare naturale sia stata provata e riprovata come quando vedete i movimenti su un palco scendere con lo spettacolo di Asval non c'è un movimento che non sia stato deciso allora io qui vado qua e mi metto così no sarebbe meglio se ti mettessi così ok e tu codifichi che lì ti metti così e domani te lo scodio e fa oh Dio mi sono messo così scusa e riparti per cui così come riprovi 50 volte il gesto la doppiace riprovi 50 volte la proposta e spessissimo quelle più difficili sono quelle volte perché hai una sola chance si lo dice ti giochi tutto in un momento in un'intenzione se devi dire il famoso perché di prima in quanti modi si può dire perché ma più di quelli che uno riesca coscientemente a immaginare e ce n'è uno giusto in molti casi uno solo e se tu non lo prendi in quel momento non ti viene quello è un'intenzione ma è che è tripico ma anche per l'attore i navigati insomma ovviamente quella cosa non ti viene no anche perché poi spesso prima del tuo perché c'è uno non togli un altro è sempre così magari uno non attacco arrivi scarico ma la versione ha fatto è difficile è una cosa di concentrazione e tra l'altro ecco la cosa che io dico sempre a chi approccia questo mestiere è che in particolare per fare il doppiaggio dove devi coniugare anche un'esigenza molto tecnica tu devi andare dietro a qualcosa di già fatto se fai teatro se fai cinema sì ci sono le regabbie di cui muovervi però hai una certa discrezionalità lì la gabbia non scende la gabbia è veramente sfumata diciamo che è molto più vicino all'esecuzione di una partitura di musica classica tu prova a non suonare la nota che c'è scritta sullo sport per gli sgarassoni che prendi per noi è così noi abbiamo una partitura codificata con una straordinaria precisione dall'immagine le musiche i movimenti i campi i controcampi i gesti le intenzioni dell'artista attore l'intenzione dell'artista montatore l'intenzione dell'artista regista tutto questo deve sfociare in una sensazione in 10 minuti esatto anche poi tra l'altro scusami troppo una volta avevamo anche i campi invece al lecino l'attore era lontano in un luogo chiuso si fanno i campi cioè devi fare i campi emuli la distanza dalla macchina da presa ti ammontani quanto è lontana la macchina e come leggi la memoria breve la devi molto esercitare c'è poche difficoltà tu come sia la tua priorità è quella che io devo dire la battuta bene però come faccio si dove sta al campo non leggo al microfono il microfono mi copre la bocca dell'attore perché succede anche questo che a volte che avete un microfono perfetto c'hai lo schermo bellissimo e la bocca dell'attore è esattamente lì però stai lì non ti muovi la posizione perfetta non cambia proprio niente non cambia proprio la lampada poi oggi usano le lampadine piccole e rompono niente e via come faccio e quindi posso uscire gente esaurita eh sì ma anche adesso che veramente stai una giornata sana e io mi ricordo un giorno l'attore disperato uscì perché questa carta è troppo lucida non vedo niente vabbè ti stai una giornata così tu hai già tante cose qui perché comunque hai sempre la cosa che non puoi sbagliare perché il fonico poverino sta lì dalle nove di mattina magari di sera capito ma il direttore vuole stampo e quello deve essere liberato che è una serie di stress se non se non se non li controlli mazzisci intendiamoci è molto più divertente lavorare al post eh intendiamoci però è anche un momento molto pesante di soddisfazione però no soddisfazione sicuramente tantissima ma però anche lì il rutilante mondo dà grandi soddisfazioni anche grandi di ubiliazioni ci sono delle regole alcune scritte alcune non scritte e poi ci sono ma come in tutti i campi dell'attività umana anche degli eventi imponderabili legati a circostanze che da una parte in certe occasioni ti possono dare l'occasione della vita e dall'altra ti possono togliere invece una cosa che stramerite il tuo momento lo devi fare tu e non lo fai perché come tutti i lavori non va avanti sempre più bravo non sempre più bravo ma come tutti ah si ripeto nel nostro ancora è bravissima c'è quella che non sa neanche scrivere una cosa però gli fanno fare le cose a lei c'è chi lo sa ma domanda per entrare quanto mi dà fastidio che ci sia questa invasione d'Italia ma ormai diciamo il più di fastidio c'è una sorta di rassegnazione però io vorrei fare un e spesso ci fa gioco perché a volte entriamo anche noi nel giro grosso perché se le proporzioni diventano così folli che adesso dico non a caso Galeazzi che non fa doppiaggio che non fa doppiaggio che danno 20.000 euro allora io che faccio il doppiaggio non me lo puoi dare da 40 30 anni capito? e allora a volte ci fanno gioco ecco come mi fa rabbia non è l'ingresso dei talent mi dà fastidio l'ingresso dei talent che non fanno questo mestiere perché se tu vedi un cartone americano non è che c'è Dan Rader a doppiare la cartone americana Dan Rader fa giornalista in america mai a nessuno verrebbe in mente di fare di doppiare il protagonista di spiega di pubblico no fanno doppiare gli attori chiamano un grande attore e allora va bene grande rispetto se mi chiamano dico un altro nome a caso Gabriele Lavian che è il doppiaggio che scende? chiamano di Forbendetta di Forbendetta ha fatto anche sì appunto sto dicendo Gabriele Lavian ma io sono felice perché comunque al doppiaggio mettiamo una voce non sentita non scontata di un attore con gli altri buti dove devono stare poi che li abbiamo di più o di meno non me ne frega più niente quello che mi dà fastidio è se chiamano davvero che ne so quando c'è il merito va bene quando c'è poi la professione perché io se mi chiamassero in sala operatoria ad apri 1 ragazzi siamo pazzi però qui si mi stiamo bene lì e qui invece ti inteso di rovinare un film tu che fai sì rimane la tua storia cosa ne pensi di una cosa che spesso ti ama toglie ma ragazzi sui simpson è una cosa simpson sono un prodotto a sé sono un prodotto a sé che oltre ad arcolla c'è da dire che c'è a monte dal tuo interlocutore che è il mediaset la volontà di rendere simpson comunque è un fenomeno e quindi ragazzi stiamo parlando di fare le proporzioni comunque di una cosa strana a volte sono venuti questi grandi personaggi a fare la loro performance gratis per giocare perché gli frega sono venuti un poveriggio a giocare hanno fatto personaggi da 20 righe però è uscito il trafiletto sul giornale valeva proprio la pena a quel punto chiamarli a fare il personaggio da 20 righe ma nessuno è mai venuto in mente per fare lisa simpson a che ne so a una strappona per cui facciamo le proporzioni se il gioco vale la candela io devo chiamare uno che comunque non me lo rovino il prodotto e mi esce un po' distanta stiamo a giocare anche se non sempre loro sono convinti che porti gente al botechino ma non è sempre al cinema no non è sempre così comunque perché voi comunque avete imparato ma per quello che dicesti che comunque alla fine questo accordo lo dirà anche a voi dobbiatori perché il pubblico comunque si rende conto della differenza fissale che c'è tra aspiranti addetto ai lavori che può essere una attualità al vicino e faccio l'esempio perché ha un film che non è piaciuto proprio per il doppiaggio l'area d'amico che è una giornalista che va a fare il doppiaggio di Eragone è un film sul quale c'era una grande aspettatina ti dai la risposta ma solo fortunatamente ci siete voi anche se poi è chiaro che voi non vi mettete a telefonare a protestare mi ricordo il caso di Beautiful sì di Beautiful quando siamo stavano qui in sciopero e andò in onda con i sottotitoli la sollevazione italiana ci fu tutti abbiamo telefonato io per quanto il centralista non ne potevo più perché era un continuo di proteste di cose che è uscito il tuo giornale di un nuovo l'audience ottima contro chi combatti però ecco nel caso dei talent ovviamente loro sono convinti anche se non tutte le produzioni sono convinti vanno fatti e distingo però è ovvio che in un mercato così ampio ci sia anche chi crede di risolverlo e adesso infatti molto meno c'è stato un periodo che facevano tutto adesso io per lui ero diventato uno spasso è arrivato un cartello nuovo intanto lo compiamo per il discorso delle opportunità che faceva Teo secondo me è giusto perché chiunque lo può fare l'unica cosa che ci può dar fastidio è che io lo faccio da 35 Teo è uguale ci può dar fastidio che noi lottiamo magari per chiedere determinate cose e questi vanno lì con l'autista arrivo a prendere la posizione arrivo due ore dopo arrivo qua e là e ti danno che ti viva per fare l'acqua questa è l'unica cosa non è che facciano male loro fanno male al concetto certo perché anche a me se mi interaggono a livello solo di professionalità Teo arriviamo in sala ci mettiamo lì concentrati pronti attenti è tutto insieme una macchina ma penso dopo 35 anni che lo faccio e uno si sente una volta di meno dai qualcosa la prima faccia no? è bello certo questa è l'unica cosa però chiariamo un'altra cosa in tutto il settore artistico non è mai niente sfondato devi sempre dimostrare di essere al passo se tu lavori in un'azienda e sei un manager di un'azienda e un giorno dici due frescacce il giorno dopo va bene da noi se un giorno non riesci a dire una battuta dopo tre giorni ma che c'è? sì sì che gli è successo a te? un altro giorno parlare sono 30 anni che parlano ma potremmo parlare non posso scendere però è il nostro ambiente quindi devi sempre dimostrare tutto pensate adesso veramente cosa vuol dire dopo tanti anni fare un provino per dei nuovi che ci ha fatto meno di volte su cui lo sai che sei giusto tu lo sai direttore lo sappiamo tutti però magari è arrivato il nuovo manager trentenne bocconiano adesso prendiamo un antipatico per l'antoromasia però hanno preso per questa nuova televisione satellitare piena di nuove idee di reality e lui vuole sentire le voci perché ne conosce e quindi se gli dicono un nome non gli significa niente a lui e quindi li vuole sentire e tu stai lì beh è il problema è una continua iniezione di umiltà noi prendiamo l'umiltone spray da una parte questo dall'altra il fatto che tu sei anche il più bravo del mondo e sbagli sì se no stiamo a stare qui si sbaglia sono tutti ma che magari capita che non puoi anche non andargli bene no no ma sbagli anche nella continuità sì ma il problema spesso tutto quello dei provini è che non tutti siamo subito pronti tal 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 magari il provino c'è uno che però poi non sa fare il film però quel momento quel momento quel giorno quelle battute gli sono faccio male il film ma il provino non riesco subito ma allo stesso modo abbiamo anche vinto provini in merita certo perché quelle trenta tu le hai proprio fatte di vabbè dai vabbè che devo dire hai vinto il provino sì sì vabbè capito per cui non c'è solo pure quando l'hai fatto benissimo sapevi che era perfetto non vince l'hai dai quando ti dicono bellissimo bellissimo aia saluto è così è una strada ecce non capisco non lo so non lo so le energie che ci meritano quando vuoi fare bene fai troppo strafai di solito strafai è un po' come nello sport quando vuoi fare troppo esageri la prestazione sbagli quando arrivi che dici vabbè oggi una giornata tranquilla faccio il record poi alle gare regionali fanno il record mondiale succede pure questo quindi può succedere fateci un po' di domande ragazzi poi vi raccontavano un aspirante doppiatore da aspirante un aspirante doppiatore cosa dovrebbe fare? oltre a rassegarsi a una fatica infinita ma io dico sempre una cosa che e lo dico io tra l'altro venendo da una formazione sui generis perché io non sono arrivato al doppiaggio facendo l'attore però io dico che bisogna cominciare a capire sempre di più che il meccanismo per il quale il doppiaggio è staccato dalla professione d'attore è criminale il professionista attore fa il doppiaggio fa la pubblicità fa la fiction fa il teatro fa questo e fa quello ci sono quelli più importanti per questo o per quello come chi è laureato in medicina poi ci sono gli specialisti però non è che se tu vai al dentista e gli dici che è raffreddore quello non sa che dirvi quello sa dire parliamo di un mestiere d'attore detto questo quindi partendo dal presupposto che bisogna anche recitare avere un approccio con la battuta capire cosa vuol dire recitare la relazione al sì con gli altri il senso delle battute l'armonia il ritmo la musica poi a scegliere il doppiaggio che è un settore con un'esigenza tecnica molto diversa però dobbiamo partire dal presupposto che se io voglio fare il doppiaggio dovrei prima preoccuparmi di fare un corso di recitazione dove magari il sale di doppiaggio non mi ci importa ma non mi importa dopo aver fatto un corso di recitazione e aver magari con un po' di sana autocritica capito cosa posso migliorare cosa posso non migliorare si può tentare di accedere al doppiaggio facendo un corso di base io dico sì facendo i corsi avanzati io dico no perché se tu vuoi fare questo mestiere e la volontà del gioco per farlo una volta che hai acquisito i ferri del mestiere sono solo a fare il cuore è impensabile ma come in qualsiasi mestiere fare formazione per dieci anni il giorno che arrivi al lavoro vero scopri che la formazione non è il lavoro vero è vero o no quindi è giusto fare un corso base perché uno comincia a conoscere i meccanici i linguaggi le specifiche tecniche di certe cose ma avvelenarsi a fare tre anni nei corsi è totalmente inutile meglio avvelenarsi andare nelle sale del piaggio e prendere le porte in braccia perché succede anche questo perché è giusto perché facendo il paragone precedente il nostro è l'unico mestiere in cui tu arrivi e guardi quelli che lavorano il saloperatore a te ne andrà a scuola vicino alla maestra gli spiegano poi stai così da noi sì c'è anche la gente che ti manda ogni tanto li guardi e li fai scusa no per cui succedono anche cose paradossali vi assicuro gente che ti entra nel sale un giorno entra volevo sapere se posso seguire a quel punto ti viene proprio voglia di dire purtroppo no oggi non si può no per cui però questo cosa vuol dire che la strada è purtroppo quella di andare in giro farsi vedere farsi conoscere farsi sentire nelle sale di doppiaggio però è una via guarda arbitrariamente arbitrariamente nel senso che unica c'è scritto fuori si ascoltano nuove voci no telefona telefona le sale verifichi se conosci qualcuno eccetera poi in concentrazione è una cosa è chiaro che bisogna mettere in conto una grossa dose di pazienza ragazzi è così tronde se ci pensi già dunque è una serie che comunque se tu sei educato posso assistere è una serie che ti permette stessa cosa io passo in banca non le fanno tu non è che stai dietro lo sportello a vedere come lavora lì lo fai solo se fai affiancamento e t'hanno già assunto no quindi da noi invece tu non sei nessuno sei proprio il signor nessuno ti comporti educatamente puoi accedere conoscere i meccanismi degli sviluppi di una cosa di un processo che ti interessa è già un'occasione rara è ovvio però che non tutti sono disponibili non tutti hanno voglia c'è anche il giorno che tu non hai nessuna voglia di avere qualcuno non è sempre cattiveria che veramente delle volte c'è la gente che però non siamo dobbiamo chiudere la serie dobbiamo stare a prossima la concentrazione c'è del nervosismo che anche il giorno c'è del nervosismo ragazzi hai voglia di sentirti libero anche di esprimere anche perché devi chiedere al tecnico che sta lì dalle nove fino alle sette e mezza è stanco morto che trovi una sedia sto ragazzo che vuole sentire però insomma il cammino è questo in estrema sintesi il che vuol dire che la prima cosa che bisogna avere è la volontà però deve essere una volontà concreta cioè uno deve confrontare i corsi sono fondamentali per capire la vergogna e per capire i meccanismi e per recitare con altre persone oggi facciamo la voce dice tira fuori la voce si sente niente devi vincere la vergogna di parlare ti stanno dentro e tu puoi anche sbagliare di una cavolata devi vincere anche il magnetismo del copione sugli occhi perché tu stai lì incollato non guardi quello è il lato tecnico che impari dei corsi il corso serve chiaramente il corso serve anche a quello devi stimolare la memoria a breve perché devi imparare gli attacchi delle battute il corso basso ma esistono corsi seri di doppiaggio da lui non lo sappiamo io faccio dei corsi poi se volete ne parliamo però non sono qui per fare l'ercimonio no 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 infatti no ma noi non lo dico perché perché ce ne saranno tre è uno dei tre sì insomma poi c'è anche molta gente spera solo di fare l'ufero e acquisire gente io parto all'idea che bisogna fare classi piccole non ci sono sparlamenti l'accesso ce l'hanno tutti nessuno vuole capire uno si magari può essere è un corso basso però secondo me bisogna che le classi siano al massimo di dieci persone perché sono impossibili bisogna mettersi a loro piede che tra una lezione e l'altra si fanno i compiti a casa perché bisogna anche lavorare un po' fare delle cose per conto proprio e abituarsi perché l'attore lavora da solo moltissimo bisogna abituarsi a fare ginnastica da solo la tua palestra te la devi sapere da solo io ti do gli strumenti per cominciare ad autovalutarvi ascoltarvi capirti conoscerti che non basterà mai perché tutti abbiamo bisogno di un direttore di un regista però comunque se tu non hai proprio la più pallida idea di quello che combini è come che vai in mente con delle cose poi il direttore se pede che tu hai qualità ci perde tempo e poi ragazzi un altro elemento importante su cui non riflettiamo mai abbastanza è che bisogna imparare a usare la propria voce è uno strumento che non conosciamo così come nessuno ci insegna meglio alla radio non sei abitato a riferirti a un microfono che è qua davanti è tuo lo possiedi lo tocchi non tiene nessuno esatto al doppiaggio invece è un relazionante anzitutto con un microfono che è più distante anche perché la voce che serve al doppiaggio il suono della voce che serve al doppiaggio è molto diverso da come serve alla radio se noi doppiassimo come si lavora la voce alla radio sembrerebbe tutto un trailer nei migliori cinema se tu ti avvicini così ai microfoni fai quegli effetti ma è un'altra cosa tu ti relazioni con un microfono molto sensibile ma che sta a un metro da te e devi imparare a usare la tua voce al meglio perché comunque anche se parli solo col microfono in realtà tu devi utilizzare tutti i tuoi risuonatori naturali il terreno la cassa armonica al meglio altrimenti non arrivi a una giornata di lavoro non ci arrivi a una giornata di lavoro cambia la voce appena devi strillare un attimo se non hai controllo resti afro ok adesso c'è il quinto uno scorticano vivo e muori se tu non la sai usare la voce lo fai di getto fai quella scena e poi stai tre giorni a casa la fai bene è incredibile e poi stai tre giorni a casa infatti la difficoltà è quella che vuole essere vera però devi anche tecnicamente cos'è io prima la faccio un errore infatti la voce da di tutto dopo tre turni è finita se fai tre turni ti ho filmato guardate a fare i film di guerra quelli di qua e poi guardate bastardi ma non è così vai avanti l'ore così a Platona con strillato uno dei pazzi e usavamo anche i walkie-talkie veri però si usavano voi i walkie-talkie veri da un piano all'altro andatevi a parlare fuori dalla sala per fare i walkie-talkie veri davanti al microfono ma almeno dove andai fuori almeno mi hanno andato sotto al piano di sotto una sala sotto da su e non capivo ma io dove te la faccia ma come la dico ma quando parlo non importa erano quelle fuori campo ovviamente però ecco anche lì se non ti sai usare non arrivi la mia film e quindi sai per cui chiudendo la parentesi didattica insomma le esigenze sono tante e bisogna cominciare a relazionarsi con se stessi ai propri limiti per molestando che noi pensiamo che dire due battute sia banale probabilmente proprio perché noi riusciamo in quello che è il gioco che fanno tutti gli artisti di far sembrare semplice quello che non vuoi quindi due battute uno scambio di battute stupidissimo ciao come stai se non lo fai bene è una schifezza è una schifezza me dice chiameri ciao come stai lo devi dire in montagna lo devi dire su un prato lo devi dire in una camera da letto lo devi dire vestito da cavaliere medievato volete dire con mille in mano cambia tutto però sempre ciao come stai e quindi se non hai la sensibilità la capacità di capire i risultati ci arriviamo per approssimazioni successive dopo 12 ore a questo ciao come stai e nessuno le ha più 12 ore per farlo quindi questo è anche un problema purtroppo che un tempo era meno sentito un tempo c'era più tempo ma come in tutto vi chiedo in cosa c'è più tempo ormai niente ma quando c'è una scena in cui un attore si spellica dalle risate per dire come fanno a coprire le risate sono un altro problema tecnico bisogna imparare a ridere per finta tutti gli attori devono imparare a ridere per finta è quasi più difficile che piangere almeno come sonorità se uscite le lacrime è un po' più complicato ma come suono piangere viene più facile ridere a comando non è facile c'è una tecnica è perdibile che non sia falsa che si sa si una risata buona proprio perché la risata eh è una persona di fiato tutte cose che anche queste rivettono in corso che impari respirazione impari imparare a respirare è un problema se noi non usiamo gli strumenti che abbiamo al meglio siamo uguali quando spesso ci capitano delle tirate dove non puoi proprio respirare perché non lo fai però non lo prendi il fiato non lo puoi prendere lì infatti le aprile lì sono grittiche si sentiva che ti mancava la quale che ritoglio fanno quindi bravi doppiatori sono anche bravi attori di teatro perché utilizzano il loro corpo diciamo in generale sono buoni attori poi c'è chi è più portato per fare il teatro che è più portato per fare il cinema e chi è più portato per fare il fiato perché sono mestieri di teatro anche l'utilizzo della voce è importante il teatro è fondamentale ma ad esempio se tu vai a fare una qualsiasi fiction se tu senti anche l'ascolto adesso delle fiction che sono tutte con delle accettabili prese dirette tu senti l'attore vero che lo senti bene poi senti quello accanto che mi fa tutto così che appena devono fare una scena che sono arrabbiati semmo che hanno fatto le scale le cose come? ti odio senti un attimo non riescono a timbrare non riescono a dire gli odio questo è il tipico problema di molti attori della fiction che appunto recitano il problema è che anche lì nella fiction la meritocrazia è un filino meno applicata che nel doppiaggio un filino diciamo che se volete fare una grabbatoria nei mestieri d'attore il top del clientelismo si raggiunge nelle fiction e il minimo nel doppiaggio anche perché la vostra gioca è minore uno deve sprecarsi l'amico senatore per doppiare un filmetto se lo sprega per fare una fiction anche se fino al mese prima zappava la terra non ricordo perché se l'amico senatore ha ottenuto i finanziamenti europei per fare la coproduzione italo-ungherese svedese eccetera pone l'amico zappatore e l'amico zappatore la fa la fiction magari poi lo doppiamo noi e lì speriamo le facce ragazze e lì gli chiediamo un po' più di soldi e quindi non lo facciamo e quindi non lo facciamo va bene la presa diretta è febbra una curiosità ma quando ci sono le feature tipo appunto che ne so mi viene in mente di stretto di polizia le voci sono doppia cioè doppiano loro stessi o li perlumano ormai è quasi tutta presa diretta stanno imparando a fare le voci live mentre reciti lì però come per tutte le lavorazioni le tecniche capita di non fare delle integrazioni e per cui che ne so io quest'anno ho fatto la fiction su generale della chiesa come attore e c'era una scena in cui eravamo in dieci seduti a un tavolo e gli unici che non sono stati doppiati eravamo io Giannini e un altro attore perché gli altri non tutti i figuranti speciali l'hanno detta un po' così la battuta e poi sono stati ridoppiati per cui a volte si integrano si mischia ma duroso oppure capita che anche la battuta fatta bene in presa diretta si sia rovinata non so per un rumore passava nell'elicottero in quel momento e non rifai tutta la scena che era venuta bellissima che movimenta 50 persone che lavorano per non ridoppiare le tre battuta gli conviene ridoppiare le battute queste sono belle dunque io direi che se i ragazzi facciamo altri 5 minuti di break e poi cerchiamo di fare a scaglioni dei giochetti in sala di doppiati a scaglioni perché non c'è quindi bisogna fare delle cose e vediamo che sia magari una cosa travesse una cosa che potete a burrini che vediamo tanto che faccio l'acqua che non ah perfetto sì sì intanto in sala mix abbiamo la proiezione di un film di questo artista un film doppiato da lui e adesso ci prepariamo intanto vediamoci ma che ne sanno per la prima sera ma che ne sanno per la prima sera non ci sono ci state non ci sono la mia battuta non ci sono la mia battuta ma non ci sono la mia battuta ma non ci sono la mia battuta serena non puoi accumulare tutto quel ritardo a che ho una riunione presto e il partito è una partita squash tu non si è finito squash e non ho già gli detto la prima e quindi da lì è successo e la riprovi non stai così lontana voi non morde neanche il microfono il microfono è quello come ti comporti con queste donne ti alzi dal letto e te ne vai? beh certo beh spiegami come fai che racconti? che ho una riunione presto il barbiere una partita squash tu non giocchi squash ma che ne sanno è la prima sera è disgustoso sì mi vergogno tanto sono proprio contenta di non esserci stata avrei finito per diventare una di quelle donne che lascia il letto alle tre di notte dicendo che vai a raccogliere le e non hai neanche il cammino il cammino tanto non l'avrei saputo ma perché te la prendi? non ti riguarda mica altro che tu sei un affronto per il genere femminile a cui appartengo ehi non per vantare ma nessuna si è mai lamentata ti credo scappi come una lepre io credo che si diverta molto e come lo sai? lo so perché lo so perché loro sì perché loro e come lo sai che veramente loro ma che stai dicendo? che fingono l'orgasmo quando è possibile? sì a zio perché a tutte le donne è capitato sì di fingere? beh non hanno mai finto con me e come lo sai? perché lo so e questo che vuol dire? niente tutti gli uomini giurano che a loro non è mai successo tutte le donne prima o poi hanno finto e io non so riconoscere la differenza? no è ridicolo io prendo 955 euro un euro un euro e spendo mila euro di benzina va bene ok ma lei comunque io la chiamo la sera ti senti bene? oh il livello si alza inevitabilmente avete visto quanto la fretta di far dire tutto prima comincia a dirle tutto devi aspettare allora c'è la schiena attaccata al muro non si allora proprio